... ... ... ... ... ... ... Sì, è saltato. No. Sì, è saltato. Sì. Vai vai. Che idà. Sì, è saltato. Devo 5 ore alle inchiate per fare queste cose. Saliamo così fino a qua. Sì. Tre. Due. Uno. Giù. Giù. Via. Oh! 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 Ma metto il ginocchio! Oh! 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 Vai! Oh! 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 Oh!